Abbiamo chiesto l'intervento dei vigili che sono venuti, hanno fatto un sovralluogo, però si è fermato tutto lì, non è stato fatto nient'altro. Questa era una serra una volta? Era una serra che è dismessa, i proprietari non si sono mai forse degnati anche a sistemare un po' il materiale che c'era all'interno, un materiale anche pericoloso, insomma, vedere una cosa del genere vicino anche a delle abitazioni non è piacevole. Serve un intervento urgente delle istituzioni per ripulire da questo scempio ambientale. Gli abitanti di via Ceppo di Melo a Marlia nel comune di Capannori denunciano la presenza di una discarica a cielo aperto a due passi dalla loro porta di casa. Ci sono infatti i resti di quella che doveva essere una serra o un allevamento di piante, plastica, legno, tessuti, ferro, ma anche gli impianti e le cisterne. E mentre bisognerà capire se sussistano o meno delle responsabilità, importante sarebbe innanzitutto ripulire l'area per evitare possibili inquinamenti dei terreni e delle acque, ma anche perché l'ammasso di rifiuti ha spinto anche altri a usare il campo come una discarica. Ci sono famiglie, bambini che girano in bicicletta, c'è del pericolo qua. C'è plastica, figli elettrici, c'è parecchia roba che poi tanto si vede ma tanto non si vede perché c'è anche della roba sotterata. Poi dà anche il discorso che alimenta scaricarci altra roba perché la gente magari passa di qui, vede che c'è tutto questo casino, dice dai ci tiro un sacchetto anch'io, infatti la roba è anche aumentata.